L'albero di Natale, qui fanno le cose davvero in grande, pensate un po', un'intera collina trasformata in albero di Natale. Allora, ci spostiamo su quella collina, siamo andati alcuni giorni fa a seguire i lavori dei volontari dell'Associazione Millennium, vedete, mentre predispongono le batterie di luci, quante luci utilizzate? 2000 luci. Per fare un albero grande quanto? 130 metri di altezza e 70 di larghezza. E vedete che cosa accadrà il 14 di questo mese, quando sarà acceso l'albero, questa è l'edizione 2012, in pratica la collina che diventa una specie di Vesuvio, poi il meraviglioso albero che la illumina e illuminerà fino al 6 gennaio tutta la valle. Non solo albero di Natale, quando parliamo di Natale in campagna parliamo soprattutto di presepe.